Realmente spiatti da Alexa, in questo video approfondiamo questo argomento comunque ormai alla portata di tutti poiché in quasi ogni casa esiste un dispositivo del genere, che sia Alexa o che sia Google Assistant che comunque ci supporta nella vita quotidiana. Ne siamo invastiditi però dal fatto che l'assistente vocale appunto ascolti ogni nostra conversazione c'è un consiglio che vi posso dare che è quello di cancellare la memoria del dispositivo in modo da evitare che continui ad ascoltarci in continuazione. Come si fa questa procedura? Seguite il video e ve lo spiego nei prossimi passaggi. Amazon Alexa, così come tutti gli altri dispositivi di appunto assistenza vocale, rientra nella tipologia di dispositivi portatili che possono essere usati per chiedere determinate domande o registrare dei suoni in maniera continua in ogni momento della giornata. Difatti basta un semplice comando che sia Alexa o un'altra indicazione vocale perché il dispositivo si attivi. Ma il dispositivo realmente è sempre attivo perché per captare la nostra chiamata il microfono dovrà sempre rimanere attivo. Di conseguenza non soltanto la nostra chiamata si accenderà come è possibile vedere ma realmente rimane sempre continuamente acceso. Molti utenti siano rimasti appunto invastiditi dalla pratica appunto che il dispositivo sia sempre attivo nonostante negli ultimi modelli sia stata appunto introdotta la possibilità di disattivare il microfono. Realmente non sappiamo se è così. Si è deciso di trovare un modo per poter cancellare ogni traccia di conversazione dalla memoria del dispositivo. E al momento che è possibile questa è disponibile questa procedura molto semplice e applicabile appunto da chiunque senza particolari conoscenze tecniche. Vi spiego appunto come poterlo fare. Bisogna andare per rimuovere i dati presenti su Amazon Alexa tramite il nostro smartphone e l'applicazione di gestione di Alexa e cliccare sul pulsante Altro, sulle parti alti dello schermo all'estrema destra e nelle impostazioni. In seguito sarà necessario schiacciare la privacy di Alexa e andare su Esamina la cronologia Voge. A questo punto basterà usare il menu Visualizzazione per filtrare i risultati per data e per device. Quindi se avete più dispositivi e assistenti vocali potrete gestirli da questa schermata. Il layout dunque mostrerà tutte le registrazioni memorizzate in un intervallo di tempo impostato. E avremo accesso a due opzioni. La prima è quello di togliere tutto dopo averlo toccato con Elimina le registrazioni va. Oppure potremo scegliere di cancellare una singola conversazione selezionata da noi. Ovviamente non meno importante tenete in mente che per rimuovere i dati presenti nella memoria da Alexa sarà necessario abilitare i comandi vocali. Il passaggio da eseguire pure in questo caso è molto semplice. Bisognerà cliccare nuovamente sul pulsante Altro e andare in Impostazioni come abbiamo fatto in precedenza. Dopodiché ci dobbiamo recare nuovamente nella sezione della Privacy e esprimere la sezione dedicata di gestione dei dati relativi ad Alexa attivando la prima voce e abilitando l'eliminazione attraverso il comando vocale. Così si potrà evitare appunto di essere controllati in maniera costante e di poter dare la possibilità a questi dispositivi di trasmettere dati e conversazioni sensibili ad altri utenti. Vi ringrazio per averci seguito e mi invito ancora una volta a iscrivervi ai nostri canali e a seguirci sui vari social Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Grazie e saluti da spyproject.com. Ciao!